Buongiorno e benvenuti nel mio canale il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa bellissima sciarpa da uomo. È veramente molto facile da realizzare, è una classica sciarpa quindi aperta ed è lunga circa 1,60 ed alta circa 25 cm. Come potete vedere ho utilizzato un filato dal colore molto scuro, non si vede bene l'effetto. Proprio per questo ho deciso di realizzare un piccolo campioncino con il bianco in modo tale da farvi vedere nel dettaglio il punto. Ho questo effetto spina di pesce e questa piccola riga in rilievo e nel totale ottengo un effetto veramente molto particolare, elegante ma nel frattempo semplice. Quindi un punto proprio perfetto per gli uomini. Ma volendo può essere considerato anche un punto unisex e quindi va bene anche per le donne. Allora adesso vi lascio la spiegazione, mi raccomando se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. Se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre potete mandarmi le foto dei vostri progetti o se avete delle domande attraverso i miei canali social, Pinterest, TikTok, Instagram e da poco sono sbarcata anche su Facebook. Di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille. L'occorrente per il progetto di oggi è 500 grammi di lana. Questo è un misto lana, per la sciarpa ho scelto la variante blu. Ogni gomidolo pesa 50 grammi ed è lungo 125 metri circa. Dei marca punti, un uncinetto 4,5, vi consiglio sempre di provare se va bene per la vostra mano. Un ago e un metro da sarta. Allora qui la sciarpa pronta, come potete vedere è blu e non si vede molto bene la lavorazione nel video. Quindi ho preferito prendere un gomidolo di panna dello stesso identico filato e fare un piccolo campioncino per spiegarvi la lavorazione e anche per farvi vedere meglio il punto. Allora, questo punto non ha bisogno di un multiplo, quindi potete caricare un qualsiasi numero di catenelle a vostro piacimento e otterrete il punto. Nel mio caso ho caricato 256 catenelle e sono arrivata ad una lunghezza totale di circa un metro e sessanta. Adesso metto da parte la sciarpa e vado a caricare all'incirca una ventina di catenelle per formare un piccolo campioncino. Quindi, come vi stavo già dicendo prima, questo punto non ha un multiplo, quindi se usate una lana diversa o magari per la vostra mano il mio numero di catenelle non va bene, potete tranquillamente caricare il numero che vi serve in quanto voi non avrete problemi nella realizzazione del punto. Allora, come potete vedere ho caricato 20 catenelle, adesso cosa faccio? Lavoro un'ulteriore catenella per ricominciare il giro, poi carico il filo sull'uncinetto, salto la catenella appena lavorata, entro in quella precedente e lavoro un mezzo punto alto, facendo attenzione a non stringerlo troppo. Quindi, mi raccomando, non lavorate il punto troppo stretto, altrimenti poi si fa fatica a lavorare il punto. Allora, adesso, prima di andare avanti, metto qui un marca punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. E adesso cosa faccio? Come potete vedere il punto è formato da queste due costine, una e due. Io vado a lavorare il punto prendendo questa prima costina, in questo modo. Quindi, vedete, ho due asoline sull'uncinetto. Adesso entro nella catenella successiva e carico il filo. Ho tre asoline sull'uncinetto, adesso carico il filo e chiudo queste tre asoline. Ed ecco qui il risultato. Adesso, proprio come ho fatto prima, entro qui nella prima asolina di questo punto e la carico sull'uncinetto. Poi, entro nella catenella successiva e carico il filo. Ho tre asoline sull'uncinetto, carico il filo e chiudo le tre asoline. E questo, semplicemente, è il passaggio che devo ripetere per tutto il resto della catenella. Ve lo faccio ripetere. Quindi, entro qui dove c'è la prima asolina del punto appena lavorato. Poi, entro nella catenella successiva e carico il filo. Ho tre asoline sull'uncinetto, carico il filo e chiudo le tre asoline. Ed ecco qui il risultato. Vedete? È una sorta di mezzo punto alto, soltanto che ha questo effetto in diagonale. Quindi, adesso, rientro sempre qui nella prima asolina del punto appena lavorato. Poi, entro nella catenella successiva e carico il filo. Ho tre asoline. Carico il filo e chiudo le tre asoline. Mi raccomando, tutti questi punti non vanno lavorati troppo stretti. Altrimenti, poi, si fa fatica a prendere la prima asolina. Quindi, ve lo faccio vedere un'altra volta. Entro qui nella prima asolina e la carico sull'uncinetto. Poi, entro nella catenella successiva e carico il filo. Ho tre asoline sull'uncinetto. Carico il filo e chiudo le tre asoline. Quindi, è veramente molto semplice questo giro, in quanto devo ripetere sempre lo stesso passaggio. Io adesso vado avanti a lavorare tutto il resto della catenella. Noi ci rivediamo quando ho lavorato i miei 20 punti. Così, poi, vi faccio vedere come realizzare il giro successivo, che poi è il giro che andrò a ripetere per tutto il resto del campione. Allora, come potete vedere, sono andata avanti a lavorare tutto il resto della riga, come vi ho detto, e questo è il risultato. Questo punto è veramente molto carino, perché ha questo aspetto in diagonale, ed è molto facile da lavorare. Allora, adesso cosa faccio? Vado a lavorare il nuovo giro, che è poi il giro che ripeterò per tutto il resto della sciarpa. Quindi, una volta lavorato l'ultimo punto, lavoro una catenella e giro il lavoro. Adesso, allargo leggermente l'asolina sull'uncinetto, carico il filo sull'uncinetto, e cosa faccio? Vado a sistemare bene la riga lavorata in precedenza, perché, come potete vedere, qui ho proprio l'effetto delle asoline del punto, ma quelle su cui io devo andare a lavorare sono queste. Quindi, il mio consiglio è proprio questo, mettere ben in verticale la riga lavorata in precedenza, schiacciarla tra le dita, in modo tale da lavorare sulle asoline giuste, ossia queste, e non su quelle che poi rimangono in rilievo. Quindi, adesso, prendendo soltanto l'asolina di dietro del primo punto disponibile, quindi, mi raccomando, ho due asoline, io devo prendere soltanto quella di dietro, in questo modo, e vado a lavorare un mezzo punto alto. Poi, prendo un marca punto e segno questo punto, per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Mi raccomando, il punto non va lavorato troppo stretto, altrimenti poi ho difficoltà a procedere con la lavorazione del punto. Come potete vedere, il mezzo punto alto è formato da due asoline, io entro in questa prima asolina in questo modo, poi, sempre tenendo bloccato tra le dita il lavoro, vado nel punto successivo, prendo soltanto la costina di dietro, carico il filo sull'uncinetto in modo tale da avere tre asoline, poi carico il filo sull'uncinetto e chiudo le tre asoline. e questo è il risultato ottenuto. Adesso cosa faccio? Ripeto lo stesso identico passaggio, quindi entro qui nella prima asolina del punto appena lavorato, poi, sempre tenendo bloccato tra le dita il giro precedente, entro nel punto successivo, prendo soltanto la solina di dietro, carico il filo sull'uncinetto in modo tale da ottenere tre asoline, carico il filo sull'uncinetto e chiudo le tre asoline. Ed ecco qui il punto. Mi raccomando, il punto va sempre lavorato abbastanza morbido, altrimenti poi si ha difficoltà a prendere la solina per lavorare il punto successivo. Quindi, vi faccio vedere un'altra volta cosa fare. Entro qui nella prima solina del punto appena lavorato, entro nel punto successivo, prendendo soltanto la costina di dietro, carico il filo, chiudo le tre asoline. Quindi, come potete vedere, ripeto sempre lo stesso giro di prima. L'unica differenza è che adesso vado a lavorare in costa indietro e ottengo questo risultato, ossia questa riga in rilievo, che poi mi dà un aspetto particolare al punto. Quindi, mi raccomando, devo ripetere questo passaggio per tutto il resto della riga, noi ci rivediamo quando sono arrivata al penultimo punto, in modo tale da farvi vedere come lavorare quest'ultimo punto. E mi raccomando, dovete avere sempre lo stesso numero di punti iniziali. Allora, come potete vedere, sono andata avanti e questo è il risultato. ho sempre questo punto lavorato diciamo in diagonale e poi ho questa costina in rilievo. Adesso cosa faccio? Tolgo il marca punto, entro qui nella prima costina del punto appena lavorato, entro nel punto successivo, ossia l'ultimo punto, e vado sempre a prendere soltanto la costina di dietro, carico il filo, ho tre asoline sull'uncinetto e chiudo queste tre asoline. Ed ecco qui ho terminato anche questo giro. Questo poi è il giro che io andrò a ripetere per tutto il resto del campione o comunque della sciarpa. Quindi come potete vedere il punto è veramente molto facile. Inoltre è bello sia davanti che dietro, perché vedete dietro ho questo aspetto, mentre davanti ho questo aspetto con questa riga in rilievo. Adesso vi faccio ripetere un'altra volta il passaggio. Quindi lavoro una catenella, giro il lavoro, allargo leggermente l'asolina, carico il filo sull'uncinetto, tengo bloccato il lavoro precedente in questo modo e compio questo passaggio in modo tale da avere le asoline del punto davanti a me, salto la catenella appena lavorata, entro nella costina dietro del primo punto disponibile e vado a lavorare un mezzo punto alto. mi raccomando lavorato morbido. Poi prendo il marca punto e segno questo punto. Adesso cosa faccio? Il punto è formato da queste due asoline, entro nella prima asolina in questo modo, poi sempre tenendo il lavoro come vi ho spiegato, entro nel punto successivo, prendendo soltanto la costina di dietro e carico il filo sull'uncinetto. Ho tre asoline. Adesso carico il filo e chiudo le tre asoline. Ed ecco lavorato il punto. Adesso ricomincio, quindi entro nella prima asolina del punto, entro nella solina di dietro del punto successivo e lavoro in questo modo. Quindi entro nella solina del punto, entro nella solina di dietro del punto successivo, carico il filo sull'uncinetto e poi chiudo le tre asoline. Mi raccomando, tutti i punti vanno lavorati morbidi, altrimenti poi si ha difficoltà a prendere la asolina per poi lavorare il punto successivo. Quindi, come potete vedere, è veramente molto semplice lavorare questo punto in quanto devo ripetere sempre e soltanto questo giro. Allora, adesso non vi faccio vedere oltre perché altrimenti poi il video diventa noioso. Alla fine è sempre lo stesso passaggio. Vi faccio vedere soltanto l'effetto. Vedete? Da una parte ho questa riga in diagonale e poi questa riga in rilievo e dall'altro lato ho prima la riga in rilievo e poi la parte in diagonale. Quindi la sciarpa sia da un lato che dall'altro è bella da vedere. Adesso lavoro qualche altro giro per farvi vedere bene il risultato e poi ci rivediamo direttamente per vedere come terminare la sciarpa. Nel caso della sciarpa ho ripetuto questo giro per tanti giri in modo tale da ottenere un'altezza totale di circa 25 cm. Poi se volete una sciarpa più corta o comunque meno alta quello poi dipende dal vostro gusto regolatevi voi per quanti giri andare avanti. Tanto il passaggio è sempre lo stesso quindi non vi cambia niente. Allora adesso vado avanti e ci rivediamo tra un po' quando il campioncino è pronto. Allora come potete vedere ho lavorato qualche altro giro e adesso il punto si vede proprio bene. ho una parte lavorata a spina di pesce questa in diagonale e una parte in rilievo e il tutto insieme mi dà un effetto veramente molto bello. poi se gira il campione dall'altro lato ha lo stesso identico aspetto soltanto che il punto dove dall'altro lato ha la spina di pesce e da questo lato la parte in rilievo e viceversa. Quindi da una parte o dall'altra la sciarpa è sempre uguale. Allora una volta arrivata qui per concludere la sciarpa cosa mi resta da fare? Semplicemente lavorare una catenella di sicurezza e poi tagliare il filo. Nel mio caso il filo non lo taglio in quanto questa lana mi serve per un altro progetto e quindi per non sprecarla poi semplicemente l'andrò a scucire. Allora una volta fatto questo poi prendo l'ago e nascondo sia il filo di sotto che il filo tagliato e il risultato che si ottiene è proprio questo della sciarpa blu ossia un bordo ben rifinito e una sciarpa bella sia davanti che dietro. Quindi come potete vedere il punto rimane molto ben pulito e non ho ritenuto necessario fare un contorno in quanto anche la parte dove si gira il lavoro rimane molto bella a mio avviso. Quindi una volta fatto questo la sciarpa è terminata. Come vi ho già detto ho realizzato una dimensione di un madre 60x25 in quanto ho pensato questa sciarpa per un uomo ma vi basterà cambiare il numero di catenelle e il numero di giri da lavorare e potete modificare la sciarpa come meglio preferite potete magari realizzarla per un bimbo e decorarla con un animaletto un topolino insomma qualsiasi altro oggetto da bambino o comunque realizzarla anche per una donna e ottenere un risultato più semplice e magari potete abbellirla con un filato brillantinato o con qualche altra decorazione. Allora io adesso vi saluto noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto mi raccomando se vi è piaciuto il video comunque la spiegazione lasciate un bel like se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati inoltre vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti o se avete delle domande o delle richieste attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto ciao ciao